Questa è una cicatrice infarquare, che sono più accessibile, che viene a provare e che viene a provare il nostro lavoro, che è una cicatrice infarquare. È un titolo molto altissonante. Per dire cosa, dottore? È un titolo che dovrebbe riassumere gli aspetti fondamentali. È un tentativo di sintesi di questi aspetti. E c'è anche un obiettivo. L'obiettivo è stato illustrato, sintetizzato, presentato nella maniera più chiara possibile attraverso una documentazione infissale del quotidiano sanità, il quale ha fatto un follow-up di pazienti a 7 anni, pazienti oncologici, e ha documentato qualcosa che la gente generalmente non conosce. L'informazione è diversa, che è una percentuale molto alta, il 33% di pazienti a 7 anni, e desede per tossicità degli attuali trattamenti oncologici. Quindi chemioterapia e radioterapia. Esatto, che c'è chemio, radio, anticorpi e monoclonali. In parole povere. A 7 anni una valutazione di pazienti oncologici porta a una percentuale di sopravvivenza del 16%. Per cui il 33% non ce la fa per tossicità, gli altri per progressione e per tumore. Complessivamente la sopravvivenza a 7 anni ufficiale, pubblicata e internazionale, del 16%. Questo costituisse l'obiettivo della ricerca del metodo di Bello iniziato. Se viene ritenuta ottimale una sopravvivenza del 16% a 7 anni, non parliamo più. Se si ritiene che magari qualche cosa di impossibile possa fare, allora prendiamo in considerazione i limiti di queste terapie, le cause di questa tossicità e una percentuale di sopravvivenza che sicuramente non è accettabile. Con il metodo di Bello invece avete ottenuto obiettivi diversi, risultati diversi. Allora, la realtà è questa, prendiamo atto della realtà. È opportuno modificare questa realtà sicuramente. Diminuendo che cosa? Una tossicità che arriva a una percentuale di decesso e di cosa portata lì. Allora, si impone una scelta terapeutica di prodotti che rispondano a determinati requisiti. Da una parte non siano tossici, dall'altra parte non siano efficaci. Praticamente agiscono in maniera tale da ridurre in maniera determinante la progressione del tumore e la causa di decesso, la causa di morte. Questo come base che cosa deve avere? Deve avere delle molecole certificate nella letteratura scientifica. Perciò io faccio ricorso alle banche dati, biomediche mondiali, ufficiali. È un dato di fatto. Questo qua io le devo valorizzare in un contesto di razionalità terapeutica. Ora... Cosa significa? Razionalità vuol dire che deve essere tutto frutto di un ragionamento conseguenziale e logico. Perché la fisiologia... Che è un po' anche il plus del metodo di Bella, perché si valuta nel complesso. Complessivamente, però, la base è il ragionamento logico. Il ragionamento logico su che cosa si basa? Su dei dati scientifici, logici, la fisiologia, la biochimica, la biologia molecolare. Allora, obiettivo, modificare delle percentuali di sopravvivenza così limitate. Con che cosa? Valorizzando degli elementi che sono fondamentali, documentati come effetto antitumorale. Quali sono questi elementi? Siccome la biologia è praticamente non è un mare, è un oceano. Le reazioni vitali sono immense, sono vastissime. Queste reazioni vitali nel tumore sono sovvertite, in maniera tale che, oltretutto, la cellula tumorale esprime una capacità di resistenza, aggressività e proliferazione enormemente superiore alla cellula sana, facendo un paragone come se fosse un motore di altissima capacità funzionale rispetto a un rendimento molto più alto della cellula tumorale. Perciò partiamo dalla grande complessità di reazione biochimica. Queste sono moltiplicate, aggravate, potenziate, drammatizzate dalla capacità di essere la tumorale. Io ho citato anche nella relazione un aspetto strategico di concezione. Cosa vuol dire strategico? Strategico vuol dire risolvere un problema di fondo, non avere un effetto temporaneo, un effetto tattico. Essendo ricorsa all'insegnamento della storia, che è sempre fondamentale, validissimo. E che poco si studia a scuola. Sì, ma adesso studiano la falsificazione della storia, non studiano la storia, sì. Allora, Stato segretario americano, il quale gestì l'intero sforzo bellico americano, però anche gli obiettivi, McNamara, mente brillantissima. Che cosa individuai dell'intera produzione bellica tedesca? Di senute che andiamo a bombardare i cantieri sommergibili, le fabbriche di carri armati, di camion, no? Dobbiamo bombardare quello che serve per tutto questo. Mettere in crisi i denominatori comuni dell'intera produzione bellica. Quali sono? Cuscinetti a sfera. Non c'è il carri armato, camion o apparecchio che funzioni senza cuscinetti a sfera. Trasferiamo questo concetto tumore. Cosa dobbiamo colpire? L'elemento critico, la struttura portante della cellula tumorale. È inutile che ci andiamo a disperdere su un miriade di reazioni, tirosinchinasi, protosinchinasi, linee di segnalazione, no. È frammentario, è un obiettivo localizzato, magari anche elegante come ricerca, ma sterile di risultati. Io devo sentire l'obiettivo vitale. E qual è l'obiettivo vitale? L'obiettivo vitale è doppio. La vita è energia. Cellula tumorale è una vita superiore. Non fa bisogno energetico superiore. Come faccio a togliere l'energia? Blocco la fonte di energia. Qual è la fonte di energia? Sistema neuroendogeno. Primis, l'ormone della crescita. Questo dato non è personale, non è una convinzione. È un dato di fatto matematico, incontestabile, documentatissimo. Purtroppo ancora non valorizzato in terapia. È il perno della terapia. Cellula tumorale. Senza energia non cresce. Senza energia non può sviluppare il suo metabolismo. Senza energia non si sposta e non si riproduce. L'energia fondamentale, il carburante tipico primario, è il growth hormone, l'ormone della crescita. Crescita è protitosintesi. L'intera protitosintesi è GH dipendente, growth hormone dipendente. L'ormone della crescita è prodotto dall'ipofisi anteriore, insieme con un altro ormone che è una prolattina. Tutte due insieme, prolattina e ormone della crescita, sono la base della vita, sono la base della protitosintesi. Protitosintesi è crescita. Quello che è documentato in maniera incontestabile è la capacità della cellula tumorale di utilizzare le dosi moltiplicate rispetto a quella sana. Non solo questo è documentato in maniera incontestabile. È documentato che la cellula tumorale le utilizza in quantità dose dipendente. Vuol dire che c'è un rapporto diretto, proporzionale, tra aggressività della cellula tumorale, resistenza, capacità di migrare, capacità di riprodursi, capacità di resistere ogni, e tasso di ormone della crescita che riesce a utilizzare. In sinergismo con la prolattina. Una volta che questo dato è definitivamente acquisito, si utilizza il termine di evidenza scientifica. Cosa vuol dire evidenza scientifica? Un dato della ricerca è definitivamente acquisito ed è incontestabile. Una volta che sono arrivato a questa certezza, la cellula tumorale cresce con quello, cresce in rapporto alla sua soddipendente. Più ne utilizza più aggressiva, che cosa devo dare? Un inibitore specifico che impedisca la cellula tumorale di utilizzare quell'enorme spinta energetica e proliferativa che le consente di sovrapposta alle altre cellule. E qual è questo elemento? L'antidoto specifico, naturale, biologico e la somatostatina. Nel nostro organismo c'è un equilibrio in tutto. All'ormone della crescita, alla spinta della crescita, si sovrappone, bilanciandolo e equilibrandolo, il contenimento della spinta della crescita. Il contenimento viene fatto nell'ipotalamo, è una struttura che regola l'ipofisi. Nell'ipotalamo viene prodotta la somatostatina, c'è la produzione dell'analogo a 8 aminoacidi. Ora questo rappresenta il cardine. Mi toglie l'aspetto fondamentale, il pericolo più grande della proliferazione e migrazione neoplastica. Nella relazione che ho tenuto da oggi, questi concetti li ho esplicitati, li ho documentati nella maniera più cara che mi è stato possibile. Certo. Facciamo un passo indietro. La somatostatina, ne abbiamo sentito parlare diverse volte nelle nostre trasmissioni, la sua somministrazione è piuttosto complessa, però come attraverso la fondazione voi avete finanziato una ricerca per rendere questa somministrazione più semplice attraverso una pastiglia. A che punto siamo? L'aspetto cardine della somatostatina e del suo analogo è quello di impedire che la cellula tumorale utilizzino il mondo della crescita e abbatterne la produzione. Attualmente viene somministrata o con un temporizzatore, sotto cute, una seringa, 12 ore, oppure un'iniezione intramuscolare, l'analogo all'entorilasso. Questo naturalmente che cosa comporta? Comporta un certo impegno, perché una persona di sera, dopo cena, deve mettere una seringa con un temporizzatore, viene fuori un tubino, mette sotto cute con un cerotto. Si può muovere, può fare quello che vuole, però è comunque un condizionamento. L'altro condizionamento, più che altro da un punto di vista economico, anche se oggi è molto meno rilevante, è un'iniezione dell'analogo all'entorilasso. Ma io cosa ottengo usando le tutte e due? Una saturazione recettoriale e temporale. Perché? Somatostatina agisce su determinati punti critici dei recettori cellulari. Quella a 14 con la macchinetta li prende tutti. In maniera non potentissima, ma li prende tutti. L'octilo D dell'analogo all'entorilasso è potentissimo sul 2 e sul 5, che sono fondamentali per la produzione dell'ormone della crescita. C'è un aspetto interessantissimo. L'effetto di induzione tumorale dell'ormone della crescita è multiplo. È una valanga, è un domino di reazione. Perché oltre ad agire direttamente sui suoi recettori della cellula tumorale, insieme con la prolatina, promuove una quantità di sostanze altamente oncogene. Se l'ormone della crescita, a livello del fegato, mi produce l'IgF1, la somatomedina, è una spinta formidabile di accelerazione della crescita tumorale. Il fattore epidermico di crescita ha un ruolo fondamentale. Il fattore vascolare mi dà l'angiogenesi. Ora, tutti questi fattori di crescita, potentemente tumorali, sono tutti collegati, dipendenti dall'ormone della crescita. Per cui se io vado a inibire quello, inibisco tutta una cascata di fenomeni proliferativi. Ora, se io invece di disporre di un prodotto che inietto la sera dopo cena, o di un prodotto che comunque, anche se i costi sono stati battuti, perlomeno oggi, la lara 30 mg, se partite da cifre 1700 euro, oggi la trono, qualche farmacia come farmacia, poco più di 400 euro, diciamo, diventa più accessibile. Se però, come portava oggi il professor Neri, che è il professor ordinario di Oncologia Sperimentale Universale, che sta facendo un studio molto complesso e importante, con approvazione del comitato etico, e in stretta sintesi e collaborazione col CNR, che ha preparato la microemulsione, che loro daranno a pazienti, daranno a animali, con il comitato etico, cosa porta a questo? Una somministrazione orale con enorme semplificazione della terapia. Ma è la stessa efficacia? Ma è maggiore. Perché? È stata pubblicata e documentata. Perché è maggiore? Per questo motivo. Perché la somatostatina, 14 amminoacidi, 8 amminoacidi, avvolta, come se fosse avvolta da uno schermo, da una capsula, di fosfolipidi della lecitina, è molto più resistente agli enzimi che nel sangue, peptidasi e proteasi, ne limitano l'attività. Ora, cosa vuol dire? Attualmente, lo stato dell'arte, pubblicato sulle banche dati mondiali, finanziato dalla Fondazione Di Bella, dal CNR e dal professor Neri, cosa porta? Una emivita, cioè una capacità, una funzionalità, che dai tre minuti originali della somatostatina è passata a sei ore. Cosa vuol dire sei ore? Che io do un paio di pilloli fra colonna da bere, evito la temporizzata, evito il lento rilascio. Ma qual è un vantaggio? È un vantaggio che è inesperato. È emerso proprio dal decorso, dall'itere sperimentale. Ora, questa somatostatina, avvolta dagli iposomi, ha un'alta affinità intracellulare. Entra dentro la cellula con enorme facilità. Quindi è potentissima. Esatto. Come molti prodotti, l'iposomiale, perché sono volte di fosfolipidi. Le membrane cellulari sono fosfolipidi, per cui questo transito attraverso la membrana e con l'attività a livello dentro alla cellula viene notevolmente potenziato. Un discorso è avere un prodotto con azioni intracellulari, uno all'esterno. Però cosa è emerso da questa ricerca? All'interno della cellula si stanno sviluppando delle proprietà antitumorali insperate, quale la produzione di radicali liberi dentro la cellula tumorale, però. Cosa significa questo? Questi radicali liberi sono sostanze tossiche come proiettili che colpiscono la cellula tumorale. Che va in apoptosi, quindi si muore. Soprattutto radicali liberi del ferro. Un altro aspetto interessante che è immerso da questa ricerca è che se io contemporaneamente al paziente do dosi molto elevate di un prodotto totalmente privo di tossicità che è un acido grasso polinsatura omega 3, questo processo lo rende enormemente più potente. Devo fare coincidere la somministrazione della sombrostadina liposomiale con la somministrazione di alti dosaggi di omega 3. Contemporaneamente è emerso un altro aspetto la formabilità e la permeabilità della membrana della cellula perché è vitale? Perché la vita della cellula è fatta di scambi. Questi scambi presuppongono delle potenzialità di membrana. Cioè la membrana della cellula deve essere permeabile, deve essere in qualche maniera modulabile, adattabile, ora queste strutture che formano la membrana fosfolipidi hanno una struttura spaziale che si chiama CIS. La sombrostadina dentro la cellula mi dà una stereosomeria tra se sua mi crea una diminuzione sostanziale della vitalità delle possibilità di scambio della cellula tumorale. Qui stanno immergendo effetti multipli anche con il posto Neri con l'Università di Ferrara anche degli effetti epigenedici. Questa forma di sombrostadina mi vanno a modificare delle sequenze del DNA l'espressione di geni oncosoppressori e il silenziamento di geni oncogeni. Per cui c'è un intero filone di ricerche tutta una serie di aspetti che non sono oziosi non sono strumentali ma hanno riscontri clinici con l'enorme vantaggio di un abbattimento verticale dei costi e di semplificazione della terapia. E soprattutto di efficacia poi della terapia. Efficacia sicuramente sì. Ora lo studio in corso come ha presentato oggi il professor Neri e il senato ha anche parlato dal professor S. Ferreri sta incominciando ad essere molto complesso perché presuppone già e ha già ottenuto l'assenso del comitato etico sia sull'uomo che sull'animale e contemporaneamente la disponibilità di queste preparazioni e queste microemulsioni ma saranno testate anche su pazienti potremmo in certo senso definire particolarmente predisposti al tumore l'obeso è sempre una forma di quello che chiamiamo comunemente infiammazioni per cui c'è sicuramente una maggiore incidenza per tutta una serie di motivi alterazioni metaboliche infiammazioni allora anche su pazienti a rischio questo tipo di formulazione su volontari naturalmente verrà somministrata come verrà somministrata su pazienti sani studiando punto per punto tutte le possibili interazioni a livello sierico a livello metabolico di questa formulazione per cui sono studi sicuramente seri basati sull'osservazione di dato di fatto ci sono due seri di studi due brazzi della ricerca l'uomo animale a vari livelli perciò abesi sani poi pazienti che possono essere già in cura qui la somministrazione di questa sostanza mi porta a determinare il raggiungimento dell'obiettivo cioè se dando la somministrazione io ho un abbattimento non solo dell'ormone della crescita ma dei fattori di crescita collegati siamo sempre stati abituati a specializzarci a valutare il singolo perdendo forse una visione complessiva del panorama invece il metodo di Bella offre questa possibilità e questa visione più ampia a 360 gradi quali sono adesso gli studi interessanti per esempio che state applicando sull'ormone della crescita sì quella è la sua considerazione fondamentale e rappresenta una rivoluzione nel senso di valorizzare dei paradigmi di ricerca e delle linee terapeutiche che fino adesso sono valorizzate gli effetti sono documentati di questa nuova concezione il concetto futuro da sviluppare è acquisire come diceva il professor Ventura la maggior parte e il maggior numero possibile di informazioni sia sulle cellule tumorali ma soprattutto sulle staminali che più tempo passa più si capisce che hanno un ruolo fondamentale allora dobbiamo acquisire delle informazioni valutare informazioni di ordine chimico di ordine vibrazionale di ordine acustico elettroacustico di ordine magnetico luminoso perché ci sono anche interazioni passaggi di una genere all'altra quello che ci può portare come vantaggio terapeutico l'acquisizione di queste informazioni vuol dire in base a queste informazioni poter reagire facendo che cosa? riprogrammando queste cellule staminali tumorali non uccidendole non intossicandole non provocando danni catastrofici all'organismo ma intervenendo sul loro sistema che prevede all'origine la migrazione la chemiotassi delle cellule staminali per la riparazione di un tessuto distrutto il nuovo concetto la nuova frontiera è questo acquisire il maggior numero possibile di informazioni in base alle quali cercare di riprogrammare queste cellule staminali tumorali così misideali nel dicorso nella progressione tumorale però dirottarle verso finalità assolutamente innovative attraverso non solo donoggiamento il disastro dell'organismo ma la ricostruzione la riprogrammazione la riparazione di un tessuto distrutto ci sono già gli esempi tessuto osso e tessuto muscolare il futuro della ricerca è quello perché è una ricerca non tossica rispettosa dell'organismo non fa altro che valorizzare immensa potenzialità della natura fino ad essere sottovalutata quindi noi siamo macchine perfette in realtà macchine perfette di cui dobbiamo conoscere il più possibile dei meccanismi in gran parte ancora ignoti dobbiamo valorizzare in terapia di cui ci sono di 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 Grazie a tutti. 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 Allora questo ha la prospettiva di decifrare anche per noi tutta una serie di segnali che possono essere dati a modi software, segnali fisici alle nostre cellule staminali per riprogrammarle e per rendere la loro attività come un'attività concertata, non più isolata, in grado di portare sostanzialmente a un percorso di autoguarigione da un lato, ma dall'altro addirittura a realizzare interi progetti morfogenetici, cioè di ricostruzione, rigenerazione vera di tessuti, non mettere diciamo una toppa dove il tessuto è danneggiato. Ha citato tanti termini musicali, concertare, armonia, suonare, insomma è un mondo, quello della biologia mi pare di capire, molto vicino a quello della musica. Assolutamente, ma molto vicino all'arte in genere, nel senso che il suono, la vibrazione, i colori, la luce sono sempre stati in movimento, sono sempre stati gli strumenti espressivi dell'arte. Noi potremmo dire che quando guardiamo un quadro ci stiamo esponendo una fotobiomodulazione, stiamo assorbendo in qualche modo i colori, quindi la radiazione elettromagnetica luminosa che quel quadro illuminato in un certo modo emette, quindi in qualche modo questa impatta sulla nostra biologia. Quindi siamo fatti di energia? Sì, come tutto. Come funzioniamo quindi? Funzioniamo col fatto che questa energia non va più vista come, come posso dire, un'entità piatta, siamo soliti disegnare le caratteristiche di un campo elettromagnetico con dei vettori ricavati magari per deduzione matematica, fisica, o dire che ha un'ampiezza, una frequenza, una forma d'onda, un intervallo tra un'onda e la successiva, tutto vero, tutto giusto, ma la configurazione spazio-temporale di queste energie soltanto in tempi recenti si comincia a coglierla ed è questa la vera e propria informazione, cioè come le caratteristiche di queste energie fisiche si organizzano nello spazio e quindi nella loro tridimensionalità ma anche nel tempo. E come a proposito di un'orchestra, a proposito del discorso dell'arte, tutto questo generi una sinfonia coerente. Per coerente intendiamo una sinfonia in cui i vari componenti dell'orchestra sanno di far parte di un progetto. E di nuovo la partitura e le modalità con cui la partitura viene somministrata da un orchestratore sono il software, l'hardware saranno gli strumenti musicali che lavoreranno insieme e una parte del software sarà la capacità di intelligenza dei singoli orchestrali o dei primi musicisti di entrare nella partitura. Un'immagine molto bella che ha a che fare anche con la visione sistemica che dovremmo avere della medicina e della vita in generale. Invece spesso ci fermiamo ai settori. Sta cambiando. Sta cambiando per fortuna. Quindi dalla visione super specialistica che ha portato magari a vedere il paziente come un numero, bisogna tornare alla visione di un essere umano che soffre e che va affrontato nella maniera più ampia possibile. Cioè il ruolo del medico è quello di creare verso il paziente un abbraccio forte, consapevole, che possa aiutare questa persona a soffrire il meno possibile, sperabilmente a non soffrire più. Con questo intervento di oggi al congresso lei ha parlato di recuperare la natura vera di queste cellule originali, quindi riparare e guarire. Cosa significa? E come avviene? Significa che le nostre cellule, fin tanto che sono capaci di sentire, di essere parte di un tutto e di decodificare i messaggi di questo software, come lo chiamavamo prima, sono in grado di essere gli elementi perfetti di una sinfonia, di una partitura. Quando perdono contatto con questo diventano come magari il miglior musicista, il miglior primo violino, che è diventato completamente sordo a tutti gli input che possono venirgli da ciò che dovrebbe suonare. E quindi nasce un adattamento, un adattamento che magari per chi ascolta dal di fuori può sembrare cacofonia, può sembrare rumore, può sembrare perdita di ogni forma di armonia, ma che per quel soggetto che sta suonando in quel momento è il tentativo di continuare ad esistere, al di là di ogni tentativo di cambiamento. Quindi io credo che il cambiamento non consista nell'eliminare l'orchestrale, ma nel recuperarlo, quindi riprogrammarlo sul ruolo originale, metterlo in condizione di sentire il suo collegamento con un campo di informazioni di cui tutti quanti noi facciamo parte. Noi ascoltiamo solo con le orecchie? No, le orecchie sentono un range di frequenze molto limitate, le nostre cellule in realtà hanno una struttura che si chiama ciglio primario, una specie di GPS con cui riescono a sentire range molto più ampi, sostanzialmente da 0 Hz fino a diversi GHz, quindi in realtà abbiamo una capacità di ascolto che non è solo attraverso l'orecchio, ed è quello che in epoche passate era proprio chiamata come capacità di sentire, il sentimento era proprio questo. Siamo fatti anche di acqua, non solo di energia. Attraverso questo studio che lei ha presentato oggi, voi avete studiato anche le cellule all'interno dei loro componenti naturali, che cosa abbiamo scoperto? Che cosa avete scoperto? Siamo, beh, non solo i lavori nostri, è un po' lo sforzo corale della letteratura, che cerca un po' di riempire di contenuti, questa frase sicuramente è vera, è vero che siamo fatti d'acqua, c'è chi dice il 77% in peso, e addirittura come numero di molecole siamo al 99% come numero di molecole d'acqua, però quest'acqua è particolare. E qui vorrei ricordare una persona dimenticata che pure ha preso il premio Nobel in chimica nel 2003, Peter Agri, in cui diceva, e lui diceva proprio nella sua lecture di ringraziamento per aver preso il premio Nobel, che è vero che ogni cellula è fatta di acqua, ma l'acqua, diceva lui, lui semplicemente non si siede all'interno delle nostre cellule, ma viaggia in una maniera molto organizzata, proprio grazie a quelle strutture che lui aveva scoperto, le acquaporine, sono canali dell'acqua in cui l'acqua si organizza attraverso un moto turbolento, e tutto questo ha a che fare poi con le caratteristiche di polarità, di carica elettrica delle molecole segnale. Se le nostre molecole che portano segnali e informazioni non fossero in acqua, non fossero idratate in un modo particolare, la nostra biologia sarebbe completamente diversa. E quest'acqua non è una soluzione acquosa salina, ma proprio perché le nostre cellule producono molecole che vanno genericamente sotto il nome di glicosaminoglicani, tra cui per esempio l'acido ieluronico, l'acqua delle nostre cellule è di fatti un gel, altamente disomogeneo perché le molecole che concorrono a formarlo e a conferire questo stato di viscosità sono molto diverse tra di loro, sono eterogenee. Quindi avere una struttura a reticolo tipo gel, far sì che le proprietà chimico-fisiche delle nostre molecole e la loro stessa motilità siano molto molto particolari. Professore, che senso ha oggi parlare di tumori in questa presentazione? Perché? Ma io non sono un oncologo, quello che posso dire è che i tumori ovviamente sono uno dei drammi più evidenti della nostra vita contemporanea, della nostra realtà contemporanea. E credo che il modo forse più giusto, più corretto di approcciarli sia quello di comprendere sempre più a fondo la biologia. E la biologia di una cellula tumorale non fa eccezione nella sua necessità di essere compresa, nella sua esigenza di essere compresa, ha l'esigenza più ampia di comprendere nuove frontiere, nuove paradigmi della biologia in generale. Soltanto comprendendo quali sono gli intimi meccanismi alla base di parole chiave come la crescita, il differenziamento cellulare, il mantenimento o la perdita di un'identità cellulare, come fanno le cellule a lavorare in termini di network. E quindi qui torniamo a un'idea, diciamo, olistica della biologia molecolare cellulare che sta prendendo veramente sempre più piede e che si collega a un approccio olistico medico e clinico. Ecco, tutto questo fa parte, secondo me, di una splendida rivoluzione in atto, dove non stiamo più parlando di medicine non convenzionali o di biologie alternative, stiamo parlando di risultati ormai pubblicati sulle più importanti riviste del mondo, sulle riviste dove vengono pubblicati da sempre le scoperte che cambiano in qualche modo il modo di vedere le cose. Quindi questa è una buona notizia. Una good news. Che cosa ci aspettiamo quindi in futuro? Di poter guarire e rigenerarci attraverso anche queste vibrazioni? Assolutamente sì. Si è già per certi versi anche in approcci clinici, quindi mi riferisco alle shock waves, alle onde d'urto, che sono già adesso in uso clinico, diversi tra i clinici con risultati anche importanti, in condizioni patologiche notevoli come lo scompenso cardiaco umano, e alla fotobiomodulazione che sta veramente prendendo molto piede anche in ambito di patologie neurodegenerative piuttosto che di patologie del sistema cardiovascolare. Quindi luce e suoni? Luce, suoni, vibrazioni in genere, ecco, ma soprattutto ecco il concetto di un campo di forze fisiche che sia in grado, come una sorta di campo morfogenetico, sia in grado di fungere da orchestratore nei confronti della nostra chimica, della nostra biologia cellulare e molecolare. Le due cose non sono separabili, quindi le energie fisiche, se noi pensiamo a una molecola e la analizziamo, quindi è chimica, la analizziamo nel suo dettaglio più fine, troveremo una struttura vibrazionale e nel momento in cui cercheremo di comprenderla faremo necessariamente appello alla fisica, quindi è chimica ma è una chimica danzante, mettiamola così. Anche una fisica quantistica. Anche una fisica quantistica, sicuramente sì. Quindi nuove frontiere e nuovi studi, a che cosa vi state approcciando? Noi stiamo continuando nel ruolo, diciamo, più basic possibile di capire, di decifrare il più possibile questi segnali fisici, di comprendere come funzioni questo software che ogni cellula ha dentro. Grazie professore. Grazie a lei, grazie a voi. Qualche indicazione per chi ci segue e sta combattendo contro un tumore in riferimento proprio al Covid? Guardi, c'è un'assorbazione che passiamo anche i moderatori del gruppo Facebook. Per quello che sappiamo noi, i pazienti oncologici in cura con tutti gli elementi della terapia, attualmente, per quanto sappiamo noi, non abbiamo avuto infezioni da Covid. Io ho portato nel nostro sito Metodo Di Bella in prima pagina tutti i principi documentati che interferiscono in maniera potente sull'immunità. Il commissario teradinoide, vitamina C, vitamina D3, disozima, lattoferina, alfa, latoalbumina, sono prodotti fondamentali, tossicità uguale a zero, hanno un effetto reale. Oltretutto hanno scoperto la melatonina come antivirale, hanno scoperto l'acqua calda. Noi lo sapevamo da sempre, Di Bella l'ha pubblicato 40 anni. Per quale motivo la melatonina? La melatonina è un carcere universale, un distributore universale del patrimonio genetico dell'organismo. A livello immunitario è un ruolo fondamentale. Gli spagnoli l'hanno scoperto adesso. Ha una certa quantità di melatonina giornaliera, tra gli altri effetti, a quello di rendere più difficile un'infezione virale. Allora arrivato a questo punto, tossicità a zero, ha un effetto antitumorale di prevenzione di terapia e mi rende molto più difficili in contagio e complicazione e non ci sono nessun motivo di ogni genere per contrastare o cercare di delegittimare questi principi. Dottore, siamo giunti alla fine. Qual è l'auspicio attraverso questo congresso che propone? Questo congresso è un segnale a quelli che si ostinano a delegittimare la terapia censurandola. Per cui fino adesso noi non abbiamo avuto contestazioni specifiche nel merito della singola terapia, della singola... No, non entrano mai. Non possono contestare perché dovrebbero contestare le banche dati biomediche mondiali ufficiali. La lotta alla terapia di Bella viene fatta con la censura, con la diffamazione non documentata. Quello che è sorprendente è lo stato di degrado della nostra società per cui il parere personale si sovrappone al dato di fatto, per cui non siamo più di fronte a una verità come valore assoluto, come dato di fatto documentato, reale, verificabile e riscontrabile. No, la verità viene sostituita dal relativismo, dal parere personale, per cui non è vero il dato di fatto, è vero, dice l'illustre personaggio istituzionale, dice lui, per cui siamo a livello di una degenerazione dogmatica, autoritaria, scientifica, che prescinde totalmente dalla verità. Quindi attraverso questo convegno lei vuole dare voce anche a tutti quei medici che la stanno seguendo. Di valorizzare il concetto che non esiste ricerca, non esiste libertà di ricerca, non esiste futuro senza l'elemento cardine basato sulla verità. Grazie dottor Di Bella, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata. eppure uscita sulla vista importante, nasce, come sentivamo prima, spesso delle scoperte rivoluzionari dei miei risi ostacolati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.